il giro fuorlo l'oreggio come? come? ah che ne mozz'è il scopo come? fuoreggio come 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 hello yeah hahahaha come 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 Ivo ok the same spot ok 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 call me call me call me Se posso già di avvi, quello è vano bene non panno bello, se posso già di avvi non vanno ta uno segretto.